Il premier Davutoglu ha un passo dallo strappare la gognata abolizione dei visti per i cittadini turchi nello spazio Schengen. Una raccomandazione in tal senso, seppur provvisorie sottoposta a una serie di condizioni, è attesa in giornata dalla Commissione europea. La misura di cui si attende l'applicazione a viaggi d'affari, in famiglia o turistici per un periodo massimo di 90 giorni dovrebbe essere accompagnata da una serie di riserve sulla mancata soddisfazione di alcuni dei 72 criteri richiesti ad Ankara per un'abolizione definitiva dei visti. Uno dei nodi chiave era stato sciolto appena ieri grazie all'adozione di un decreto con cui la Turchia ha autorizzato l'abolizione dei visti per i cittadini di tutti i paesi dell'Unione europea, compresa Cipro. Ankara ha fatto della misura un oggetto fondamentale dei negoziati con Bruxelles minacciando a più riprese di far saltare l'accordo sul rimpatrio dei migranti di marzo qualora non venisse adottata.